Oggi è l'ultimo giorno di ferie, quindi oggi staremo abbastanza tra... ultimo, penultimo perché partiamo domani e siamo in partenza per Corbara, oggi porteremo forse Alessandro se riusciamo in un parco giochi per bimbi adesso vi faccio vedere cosa sta succedendo qui Ale ecco, stamattina siamo anche in dolce compagnia, come avete visto, delle... come chiama Ale? Le pucche e niente, partiamo perché ho appena finito di preparare lo zainetto e sono le dieci e mezza, siamo un po' in ritardino magari adesso facciamo anche un salto di nuovo da Seleguo perché ho visto una maglietta carinissima, bucciosissima che mi piace un sacco a dopo vorrei dire che il sole oggi brucia, oggi che ovviamente non andiamo a camminare come si sta bene ammiragli all'apparto adesso stiamo andando ad Araba, Campolungo e Corbara a Passo Bordoi abbiamo preso acqua mista neve ad agosto fantastico cosa stai facendo? cosa stai facendo? cosa stai facendo? cosa fai adesso? papà prendi la porta vuoi la porta vuoi la porta vuoi offrire la porta? vuoi la porta si apre non ce le faccio? prova te lo rompiamo aprilo tu prova te prova te sempre muscolare dal papà a non ce? in siamo adesso und passiamo per si al non non Grazie a tutti. Grazie a tutti.